cartomanti europei la cartomanzia al suo mondo 0773 49 35 35 ragazzi salve a tutti ben ritrovati cristiana cartomanti europei cartomaggi europei un nome qualità e professionalità chiamatemi fate in fretta 0773 49 35 05 tantissime novità molti di voi tanto già mi conoscono quindi avrò il piacere oggi di aiutare più che altro di rispondere alle vostre richieste continuate a farlo visitate anche il nostro sito la nostra pagina facebook che è molto importante il nostro sito è www.cartomanti europei.com è un sito importantissimo dove troverete di tutto ragazzi quindi per chi ancora non ci conosce perlomeno chi non mi conosce ancora che vada sul nostro sito oppure sulla nostra pagina facebook è la rinascente la vera cartomanzia rinascente tell lì troverete chi siamo chi non siamo la nostra storia i nostri turni e cose del genere c'è un'applicazione anche da scaricare che è di voi che è molto importantissima c'è il concorso delle streghette quindi approfittatene anche oggi subito ora in questo momento fate una chiamata 0773 49 3505 il concorso delle streghette come ben sapete prevede ogni minuto che farete qui con me sarà un punto regalato a voi a fine concorso ovviamente ci sono tantissimi bei premi molti di voi molti clienti che ho già stanno usufruendo di questi punti ci sono delle ricariche addirittura dei minuti qui da utilizzare per noi comunque sia se non sapete il regolamento e cose del genere chiamate il centralino che a vostra completa è da disposizione io ve lo dico sempre per qualsiasi informazione la cosa migliore è chiamare il nostro centralino che era il 0773 49 3505 tanto i numeri sono sempre sovraimpressioni voi li leggete io li so quindi ve li ridico ed è giusto così un'altra cosa che vi voglio ricordare è che ci saranno tantissime iniziative qui dentro quando dico cartomanti europei un nome una qualità avrò dei motivi ben validi dopo ne parliamo pronto? pronto? sì con chi ho il piacere di parlare? francesca francesca da dove chiami? milano è la prima volta che ti sento francesca? sì sì allora di che segno sei innanzitutto francesca? acquario acquario che domanda vuoi fare alle carte oggi francesca? se vedi se il mio ex convivente tornerà da me allora da quanto tempo è finita questa storia? 20 giorni 20 giorni mi dai il suo segno per favore? pesci pesci allora quindi la domanda è vedere se la situazione ovviamente sia finita o no ok allora ci stai guardando in diretta streaming francesca? no non perché mi ho visto se guarda nei cartoni animati ok ok in realtà poi ti ripeti la replica teso luccia allora quando sei pronta mi dai uno stop alle carte comunque sia va bene stop allora che canale è? lombardia sa che hai sky o il digitale? digitale digitale dovrebbe essere 199 se non mi sbaglio tesoro amore fammi cambiare se lo sentiamo no va bene vabbè tanto dopo ti riguardi la replica tanto vai in onda tutti i giorni francesca scegli un mazzo uno due o tre tre allora vediamo un attimo questa situazione allora 899 1 9 9 guarda adesso se hai un tablet un computer metti la diretta in streaming francesca prego non ho compito ah ok tranquilla poi lo rivedi 999 ma guarda francesca che intendi per ritorno te di questa persona francesca? non ho capito che cosa intendi per ritorno di questa persona? e se ritornerà da me? ok e se ritornerremo insieme? ok vedo altre situazioni qui fra di voi ok vedo altre situazioni fra di voi qui mi sbatte tutto sul suo comportamento francesca quindi ci sono cose che andrebbero analizzate del suo comportamento quindi quanto tempo è che lo conosci francesca? 2 anni oh quindi saprai su per giù la sua vita privata come va? sì 9 9 i familiari mi senti francesca? sì ho detto saprai su per giù la sua vita come funziona la sua vita privata quindi di problematiche ne escono fuori giusto? sì quindi perché per fartela breve te lo spiego magari a parole mie non c'è un distacco voluto da come persona non so se mi sono spiegato non c'è un distacco voluto perché magari non prova più niente per te ok? c'è un distacco perché in questo momento c'è pressione da qualche altra parte francesca questa pressione chi è che gliela sta ammettendo? non ho idea il fatto che quando abbiamo lo spartuto fuori di casa era perché non mi piaceva più alcuni suoi comportamenti sono dei comportamenti purtroppo sbagliati francesca sono dei comportamenti da immaturo te lo dico per carità santa qui è evidente nelle carte però ti dico che in questo momento c'è una situazione di pressione per lui e in questo caso mi esce fuori la famiglia quindi che cosa succede di strano in questa famiglia per renderlo così? è questo che voglio che capisci per soldi perché la famiglia c'era lontano in straniera sì ho capito solamente questo da questa parte ma adesso vi stai resentendo? gli stai scrivendo? no no io non vi scrivo neanche morta per quale motivo? per orgoglio o perché tu non hai sbagliato francesca? no io non ho sbagliato perché comunque quello che tornava alcolizzato a casa era lui lo so quello che mi insultava puntualmente era lui quello che non mi dava attenzione era lui ma ti posso fare una domanda francesca? sì allora io queste cose magari in tv evito magari di dire tutto ok? magari evito di non andare precisamente nel discorso ma lo hai fatto tu ma quindi problematiche ne vengono fuori ok? sì che cos'è che ti piace di questa persona? cioè caratterialmente io guardo te guardo come sei impostata a te con dei valori di vita e tutto quanto come guardo lui nelle carte mi esce una situazione ben diversa con alcune carte rigirate e le carte rigirate andrebbero valutate il risorio mio quindi c'è un discorso da approfondire tutto qui però il ritorno purtroppo sottolineo e te lo dico davanti a tutti non ho problemi sottolineo purtroppo il ritorno c'è nelle carte però ovviamente parlando magari fra due persone normali fra me e te sicuramente vorrei un'altra predisposizione di uomo vicino a te non una persona che ti tratti in questa maniera francesca certo magari se guarda te la faccio breve due minuti in privato perché mi basterebbero due minuti per elencarti tantissime cose se ti va se ti va magari ci risentiamo solo due minuti in privato così magari posso essere anche libero nel parlare perché di carte bene o male uso il termine brutte purtroppo ne sono uscite francesca quindi non mi piace il suo comportamento francesca verso di te non mi piacciono alcune situazioni francesca quindi tu che lo vivi lo sai io lo posso vedere magari posso dargli un'impronta dalle carte ok ma sei tu che lo vivi purtroppo ti dico di sì e lo sottolineo te lo dico purtroppo purtroppo sì quindi magari la tempistica guarda la tempistica io non so adesso dove è andato e che cosa ha fatto però c'è uno spostamento in questo periodo francesca ecco anche di quello ti ha cambiato casa bravissima anche di quello ti volevo parlare però c'è un discorso veramente che adesso purtroppo i tempi sono quelli che sono televisivi se mi chiami due minuti in privato magari possiamo essere liberi mi sento anche io più libero magari nel dirti le cose e come faccio che ho fatto in privato segna di questo numero 0773 sì 49 sì 35 4935 05 4935 05 va bene ti chiamo ok ok è stato un piacere francesca anche per me un bacione grande ciao 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 francesca ragazzi chiamatemi 0773 49 3505 vi stavo dicendo prima del famoso concorso delle streghette quindi ogni minuto che fate qui da noi sarà un punto che vi regaliamo ci sono tantissimi premi per voi e quando uso il termine tantissimi perché veramente ci sono premi interessanti molti clienti che mi chiamano già stanno soffruendo di questa situazione si prendono magari dei minuti arrivati a un tot si prendono dei minuti e ci si parla qui dentro con noi quindi anche questa è un'ottima occasione io invito veramente le persone che si sono messe magari davanti al televisore adesso ovviamente non faccio miracoli ma sono un consulente esoterico proprio perché non faccio miracoli però ho un dono questo dono lo metto a disposizione ogni domanda che mi farete lavoro fortuna amore cioè tutto quello che rientra nella cartomanzia io cercherò di aiutarvi il più possibile chi mi conosce sa come lavoro perché se le carte dicono sì io mando avanti un discorso se le carte dicono no è inutile andare avanti ed è inutile che vi incavolate poi chiamate il centralino gli dite che magari vi tratto male e così via ma trattarvi male non esiste proprio però alcune persone purtroppo ancora ad oggi io perlomeno da consulente ci rimango malissimo quando mi vengono dette determinate cose al telefono però vi dovete mettere in testa che la cartomanzia ha un mondo a parte ok sono d'accordo con voi però perché andare avanti con una persona io adesso prendo l'esempio del sentimento dell'amore quando una persona è no quando una persona è sbagliata come adesso la telefonata che ho ricevuto due minuti fa questa persona è sbagliatissima adesso quando mi chiamerà oltretutto che le carte fanno vedere un ritorno seppur sbagliato di questa persona io devo fare di tutto per farvi capire per farvi capire che non è la persona giusta quindi per farvi capire non bisogna rovinarsi la vita quando io vi dico non c'è possibilità o è la persona sbagliata vi dovete solo che fidare se sono arrivato a questi livelli sono in tv sono sempre pieno come voi mi dite io ringrazio veramente tutti quanti quelli che ancora ad oggi mi seguono e ringrazio veramente tutte le persone che ad oggi mi tengono occupato perché le persone si prenotano se vengo qui 8 o 10 ore sono sempre occupato la linea la trovate sempre occupata un motivo ci sarà altrimenti non avrei fatto tutto questo cioè non avrei dato tutti questi risultati più che altro quindi in prima cosa sono orgoglioso per me stesso per quello che faccio e poi sono orgoglioso anche per quello che faccio per voi perché quando chiamate che io vi ho risolto il problema per me è una grandissima soddisfazione è enorme è un'enorme soddisfazione e i clienti che ad oggi mi chiamano sanno come lavoro quindi se Cristian vi dice di andare avanti andate avanti se Cristian vi dice stop fermate questa situazione o per un motivo o per un altro dovete solo che prenderne atto di quello che uno vi dice per lo meno io parlo anche a livello personale ovviamente qui dentro di qualità potete fare domande a chiunque perché sono in un centro di cartomanzia di alto livello lo ribatisco abbiamo tantissimi siamo tantissimi ho molti colleghi di là ok però ognuno di noi ha una specialità ed è questo che conta perché alla fine si uno si deve anche trovare bene con il proprio cartomante di fiducia ovviamente io lo dico sempre uno quando chiama si deve trovare bene ed è quello che conta io per me stesso rimango soddisfatto di quello che faccio qui dentro le persone continuano a chiamarmi e di questa cosa ne vado fiera fiero molto fiero quindi approfittatene 0773 49 3505 io non vi deludo allora ragazzi 0773 49 3505 il discorso è questo chiamatemi una sola domanda io vi risolverò il problema come ho sempre fatto da quando sono qui qualsiasi uomo o donna non faccio distinzione una domanda e Cristian vi risolverà il vostro problema tanto una domanda non vi costa niente mi chiamate analizziamo il problema poi decidete voi se continuare il percorso con me oppure andare su un altro percorso comunque il numero lo sapete tanto sono scritto in sovra questione per oggi Cristian vi saluta è stato un piacere alla prossima cartomanti europei cartomanti europei la cartomanzia al suo mondo 0773 49 35 35